Siracusa a Santa Lucia oggi l'abbraccio del mondo intero e diretta a video del 66. Il giubilo della vita e ciò che offriamo alla nostra patrona Santa Lucia è qualcosa di veramente intenso e di indescrivibile. Il campanellino e le tradizionali urla dei devoti, Srausana Iè, e annunciare all'inizio del cammino alla cattedrale alla Basilica Eretta lo scorso anno a Santuario di Santa Lucia. È un momento molto emozionante che richiama come sempre decine di migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia per onorare la Santa degli Occhi. Ieri mattina abbiamo assistito alla traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla sua nicchia all'altare maggiore della cattedrale. Con la traslazione sono entrate nel vivo le celebrazioni per la festa di Santa Lucia. Mentre ieri sera l'arcivesco metropolita di Siracusa Salvatore Pappalardo ha celebrato i Vespri della Sorennità. Oggi nel giorno di Santa Lucia è diretta di video del 66 alle 11 con la solenne concelebrazione preceduta da sua eminenza reverendissima Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La celebrazione sarà animata dal coro polifonico diocesano diretto dal maestro Gaetano Raddino. Poi la città si riunirà in Piazza Duomo per attendere l'uscita della statua argentina della patrona alle 15.30. All'uscita del simulacro il coro degli studenti degli istituti comprensivi di Siracusa nell'ambito del progetto Coro e Musica per Tutti guidato dalla maestra Mariuccia Cirinà canterà in onore di Santa Lucia. Diretta televisiva di video del 66 alle 15 della processione delle reliquie del simulacro della Santa Patrona della Cattedrale alla Basilica Santuario di Santa Lucia a Sepolcro. Il simulacro portato a spalla dai berretti verdi e preceduto dalle reliquie sorrette dalle portatrici sosterrà in Piazza Duomo durante il discorso di Monsignor Pappalardo dal balcone del Palazzo del Civescovile prima di cominciare il lungo cammino per le vie della città di Santa Lucia. Per la celebrazione sono stati intensificati i controlli e le misure di sorveglianza sia nel centro storico di Ortigia che lungo tutto il percorso attraversato dal corteo di Fedeli. La processione percorrerà via Piccherali, passeggio a Letusa, via Ruggero VII, Porta Marina dove a cura dell'Associazione Nazionale Marinale d'Italia e Gruppo di Siracusa verranno ricordati i caduti in mare via Savoia, Largo 25 Luglio, piazza Pancali, Corso Umberto, via la Regina Margherita, via Arsenale, via Piave, via Ragusa e piazza Santa Lucia. All'arrivo di Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, celebrerà la Santa Messa. All'arrivo di Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia. All'arrivo di Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia. All'arrivo di Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco della parrocchia Santa Lucia sepolcro, fra Daniele Cugnata, parco Grazie a tutti.